A voi tutti ben ritrovati su Meteo Giuliacci. Una giornata ancora quella di martedì instabile. Un risveglio sul nord-ovest un po' più tranquillo, con prevalenza addirittura di sole. Sul nord-est invece, soprattutto sui settori più orientali, ancora qualche pioggia. Poi però, attenzione, sulle regioni settentrionali torneranno di nuovo a fiorire dei rovesci di pioggia temporali nelle ore centrae del giorno, qualche sconfinamento sulle aree di pianura entrosera. Sulle due isole maggiori dei rovesci di pioggia, irregolari ma possibili un po' su tutto il territorio, sulla Sicilia, invece sulla Sardegna, sulla parte un po' più orientale. Regioni centro-meridionali, rovesci di pioggia temporali. Attenzione, soprattutto sulla fascia centro-orientale perché sulle zone costiere tirreniche invece prevarrà il sole, quindi tempo un po' più tranquillo proprio sulla fascia tirrenica. Temperature ovviamente stazionarie, nessuna variazione significativa. Io mi fermo qui, amici di Meteo Giuliacci. Prendiamoci ancora quest'altra fase piovosa, seppur a tratti e in maniera irregolare, ma l'instabilità appunto continuerà. Noi ci riaggiorniamo presto. Arrivederci. Grazie. Grazie.